Che cosa sono i ravioli? I ravioli sono una pietanza tipica italiana. E che tipo di pietanza è? È pasta con carne, verdure, pesce o formaggio. Sono buoni? Sì, sono un piatto molto buono. I ravioli sono difficili da preparare? No, non sono molto difficili. Ma non sono neanche facili. Sono molto cari? No, non sono molto cari. Devi provarli.